Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova non recensione. Questa volta dedicato a una distribuzione Linux di cui molti di voi utenti mi hanno parlato negli scorsi mesi e ho deciso di provarla assieme a voi con questo video, con Video Reaction a caldo sulla distribuzione. La distribuzione in questione è Ultramarine Linux, una derivata di Fedora Linux che ha lo scopo, il suo life motive, di rendere Fedora Linux più user-friendly. Come ha deciso di rendere più user-friendly Fedora Linux? Beh, applicando una serie di personalizzazioni che riguardano qualche applicativo preinstallato che ha un aspetto diverso rispetto a Fedora Linux e con l'aggiunta di tre repository alla distribuzione perché questa distribuzione, Ultramarine Linux, viene rilasciata con preabilitata il repository Terra che è un repository RPM mantenuto da Firei Labs, che è la stessa società, diciamo così, che è dietro lo sviluppo di Ultramarine Linux, dove ci sono una serie di applicativi, troviamo anche una serie di desktop environment perché all'interno troviamo anche Pantheon desktop environment che è possibile anche installare su Fedora, qualora avete installato Fedora qui trovate il comando per poter installare questo repository sulla vostra Fedora in modo tale da avere accesso a questo archivio di mille e più pacchetti che Fedora non rilascia. Troviamo poi preinstallato RPM Fusion, che è un altro repository che praticamente tutti quanti noi utenti che andiamo ad installare Fedora, andiamo poi ad aggiungere alla nostra distribuzione. Fra l'atto vi ricordo che Luca ha appena pubblicato da qualche giorno una guida post-installazione a Fedora Linux 40, quindi andatevela a leggere sulle pagine del blog. E infine troviamo preabilitato FlatTab, che è il repository, quello cross-distro per l'installazione dei pacchetti in formato FlatPack. Quattro sono le edizioni principali di Ultramarine Linux, di cui c'è anche una New Entry che è appena stata aggiunta ai vari desktop environment. Andiamo qua, ecco, ve la faccio vedere. La New Entry che è stata aggiunta a questa nuova versione di Ultramarine Linux, scusate, è l'edizione con XFSE, che va a sostituire la precedente edizione con Pantheon e desktop environment, che non è più rilasciata ufficialmente. Però, come vi dicevo prima, ho visto spucciando il riposito di terra che è presente all'interno del riposito, quindi tecnicamente si potrebbe ancora installare. Ed è un vero peccato che non ci sia più l'edizione con Pantheon, perché era un modo alternativo per poter andare a provare Pantheon su una distribuzione non-debian-based. Perché Pantheon, lo sapete, viene rilasciato soltanto, ufficialmente, soltanto con Elementary OS. Qui possiamo vedere uno screenshot dell'edizione con XFSE. Come potete vedere, personalizzano l'aspetto con la dock in basso, le solite cosine basiche. Cambiano il tema predefinito con uno scuro basato su materia, dovrebbe essere questo. si è materia e vanno ad aggiungere anche un tema di icone, in questo caso le papyrus. Quindi nulla di nuovo, già temi GTK e temi di icone che abbiamo già visto su altre distribuzioni. Troviamo poi, adesso, anche un'edizione basata su KDE Plasma per Raspberry Pi, addirittura su KDE Plasma. Perfetto. Velocissimo a caricare. Troviamo anche l'edizione con Gnome, troviamo l'edizione con KDE Plasma. Anche qui potete vedere che personalizzano l'aspetto. Si vede anche nello screenshot che ci sta Edge come browser. È interessante questa cosa di proporre Edge come browser negli screenshot ufficiali della listra. Però, 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 l'edizione principale di Ultramarine Linux, mi incarterò parecchie volte in questa recensione. Top R di mezzo. Poi sono sveglio da stamattina alle 3 e mezza, quindi vi lascio immaginare il livello di stanchezza. L'edizione principale, la Fragship Edition, è con Bagi Desktop Environment. Che, vi faccio vedere già qui, fa scimmiottare, diciamo così, l'aspetto di Windows 11. E andiamo a vedere un po' come si compra questa distribuzione. Di fatto, conti fatti, con tutto quello che abbiamo detto, è un po' le rede spirituali di Corora Linux. Non so se vi ricordavate Corora Linux, ve ne avevo parlato anche diverse volte sulle pagine del blog. Che era una distribuzione che in passato ho anche provato io, spesso e volentieri, mi piaceva. Poi ho deciso di... perché poi l'hanno abbandonato, in verità è proprio perché l'hanno abbandonato così up. E poi non l'ho più installata. Però era carina. Avevi una fedora bella e pronta, come è il caso di, anche in questo caso, di Ultramarine Linux. Diciamo che questa è la cosa principale di questa distribuzione. Andiamo a dare 4 core, anzi, Creepy Caparizia. Andiamo a dare 6 core. Perché sto utilizzando Virtual Machine Manager, non sto utilizzando Gnome Box, come faccio di solito? Perché mi si pianta. Ho visto che ultimamente su Ubuntu mi si sta piantando sia la versione installata da Repository di Gnome Boxes che è la versione installata da Flatpak, che praticamente mi va a dare errore KVM all'inizio. Se installo la versione Snap di Boxes, funziona però. Con questa distribuzione mi va in crisi il sistema e quindi si chiude. Ok, abbiamo avviato la distribuzione. Andiamo a cambiare un attimo la risoluzione. Perché altrimenti così non se può guardare. Andiamo a mettere un 1920x1080. Apriamo. Ok, adesso è molto più carino. Oh, questa è Ultramarine Linux, come si presenta nella edizione principale con buggy desktop. Come potete vedere fanno una serie di personalizzazioni per rendere buggy simili a Windows 11 con il layout. Quindi menu avvio a sinistra, spazi di lavoro e qui in basso abbiamo detto sempre a sinistra. Qui ci sono alcuni collegamenti ad alcuni applicativi. Come potete vedere anche il tema di icone è pesantemente modificato. E vediamo quali sono le applicazioni preinstallate. E vedete, come al solito, ecco, come al solito ci troviamo nella classica installazione di buggy desktop con un miscuglio di applicazioni gnome, applicazioni che derivano da mate e quant'altro. E troviamo altri come visualizzatori di documenti. Ecco perché ha ragione che Fabri quando parla della necessità di avere una serie di X-App cross desktop environment. Perché se no si fa questo mischione di applicazioni sul sistema. Troviamo quindi tutti le applicazioni di buggy per quanto riguarda gli screenshot, gli hot corner, calculator, questo è quello di gnome, infatti. Che troviamo più? Troviamo preinstallato Age of Matter come visualizzatore di immagini. Ovviamente il file manager è Nemo. Vediamo che versione sta, la 6.0.2. Qui posso vedere anche la serie di icone. Le icone sono carine, eh. Onestamente le icone delle cartelle sono molto belle. Non mi piace la scelta, come sapete io ho un po' questa fissa. Ah, non amo i temi di icone che vanno a modificare le applicazioni di terze parti. Quindi Firefox con queste icone non mi piace, non mi garba per niente. Preferirei i temi di icone, preferisco anzi, i temi di icone che non vanno a personalizzare le applicazioni di terze parti. Perché? Perché, diciamoci, chi sviluppa un tema, un'applicazione, scusate, chi sviluppa un'applicazione lo fa cercando di sviluppare un brand e quant'altro. Qui, togliendoci l'icona, andiamo un po' a depersonalizzare l'applicativo. Ma questa è una fissa mentale mia. Le altre applicazioni preinstallate sono LibreOffice, Calc, Impress e Writer, il classico terzetto. Troviamo poi parole media player, come player video. Che troviamo più? Vediamo un po' che cosa troviamo più. Rhythm and Box, more player musicale. Gnome Software, perché questo è Gnome Software. Vediamo un po' se è Gnome Software, penso di sì. Sì, è Gnome Software per l'installazione delle applicazioni, che è, uh, quando è velocissimo, vabbè che sono in macchia virtuale adesso. Però Gnome Software non è, è un fumine di guerra. Lo sappiamo tutti quanti. Troviamo poi Terminale, questo sarà quello di Gnome. Vediamo un po'. Occhio e cruce e immagino di, sì, è Gnome Terminale, versione 3.50.1. Che troviamo più preinstallato? Che cos'è questa qua? Wall Street Application, non so che cosa sarà. Ah, sarà qualche cosa, sì, di Budgie Desktop. Quindi non troviamo, io mi aspettavo qualche personalizzazione in più. Onestamente, eh, onestamente. Queste sono le classiche, i Budgie Desktop Settings, quindi dove possiamo andare a personalizzare. Qui possiamo vedere che è il tema di icone, Fulente Dark. Personalizzatrice, eh, ah, che brutto, il tema Inter, anzi, il tema, i fonti Inter. Odio i fonti Inter perché sono giuventino. Vabbè, a parte questo che me la potevo risparmiare questa battuta. E niente, non c'è praticamente niente. Abbiamo, abbiamo questo, abbiamo soltanto questo per... Ops, ho messo un pannello in più. Andiamo a vedere gli installer. Andiamo a capire che cosa hanno fatto anche a livello di installer. Se hanno aggiunto un installer tipo, un installer di terze parti. E no, invece no. Non hanno messo un installer di terze parti. Ma hanno mantenuto l'installer di Fedora. Abbiamo Anaconda, il installer più amato dai grandi e piccini. Creiamo un account. Mettiamo Marco. Una password. Mettiamo una password difficilissima. 1-3-4-2 1-3-4-2 Iniziamo l'installazione. Andiamo a vedere un po' Che cosa va a fare l'installer? Sì, no, è proprio l'installer di Fedora. A sto punto veramente. Perché dovremmo andare a installare questa distribuzione? Quali i quid in più di questa distribuzione? Non lo so, onestamente non lo so. Non ce sto a capire niente. Lasciatemi un commento voi nel frattempo qua sotto. Se avete provato questa distribuzione. Se apprezzate questa distribuzione. Magari lasciatemi un commento. Anche elencando se la provate. Se apprezzate questa distribuzione. Perché amate e apprezzate questa distribuzione. Lasciatevi vivi di sotto dei commenti. Perché io onestamente da quel poco che sto vedendo in questo momento. Non vedo motivo per cui mi debba andare a installare. Ultramarie Linux. A parte un tema di icone. Quei repository che possono essere aggiunti. Il repository terra. Fra l'altro è un repository che potremmo anche evitare di installare. Tanto abbiamo RPM Fusion. Abbiamo un flat pack per tutti quanti. Flat tab per tutti quanti le applicazioni che non troviamo su RPM Fusion. Oh non lo so. Non lo so. Nel frattempo aspettiamo che termina l'installazione. Ripeto. Datemi voi un feedback. Trovatemi voi un perché io debba installare questa distribuzione. Come distribuzione principale. Anziché instalarmi una fedora. Perché non sto vedendo nessun materiale. Non è come nel mondo che ne so. Uno non si installa Debian e si installa Ubuntu. Perché sapete bene che Ubuntu è quell'antica parola africana. Io non so installare Debian e quindi installo un'altra cosa. Uno si installa Endeavor OS. Perché si installa Endeavor OS e non si installa Arch Linux? Perché offre un installer Calamares che va a consentire l'installazione facilitata di Arch Linux con un default di desktop environment, applicativi e quant'altro. Quindi ha un suo perché. Ha un suo perché quella distribuzione. Questa non... Non ci sto a vedere nessun valido motivo per poter installare rispetto ad installarsi una fedora semplice. Boh, non lo so. Nel frattempo togliamo il schermo intero. Andiamo a vedere qualche altra cosa della distribuzione. Andiamo a spucciare magari su Terra. Per cercare di capire che cosa c'è qua dentro all'interno di questo reposito che mentre sta installando. C'è un modo per esplorare i pacchetti. Andiamo un po'. Questo è il reposito di GitHub di Terra. Vedi che troviamo? Le icone è qua. Che troviamo? Pwscode che... Andiamo a vedere se possiamo spucciare diversamente i repository. Queste che sono tutte le informazioni base. Come vengono gestiti gli aggiornamenti. Io avevo visto prima anche il repository. Ecco qua. Che ci sta qua dentro? Alza. Anche questo qua. Parmore. Che troviamo? Ah, Iatana, questa è tutta roba che vi dicevo prima. Roba di... Che troviamo anche su Pantheon. Questa è roba che ci potrebbe essere budget update. Quindi troviamo pacchetti per budget desktop. Anzi, andiamo a metterci... Andiamo a metterci Terra 40. Questo è Terra 39. La precedente release. Vediamo se troviamo qualche applicazione che ne so... Edge. Perché la prima l'abbiamo visto nello screenshot. Vediamo se è presente all'interno di questi repository. Se magari hanno aggiunto Edge all'interno dei repository di Terra. Per poter installare più facilmente Edge. I repository... Eh no, non c'è. Non c'è Edge. Che troviamo qua? Andiamo un po'. Andiamo a spucciare un po' le altre pagine. Budget, Budget, G-Make, Dart. Ehm... Discord. Discord. Se vogliamo installarci Discord in maniera più facile. Sulla distro. Elementary App Center. Come vi dicevo c'è ancora presente all'interno dei repository. I pacchetti relativi a Elementary. Nonostante... Quindi a Pantheon. Nonostante adesso non sia più supportato ufficialmente. Ehm... Pantheon come... Derivato... Come Dextopenvacrum. Anzi, di... Di questa distribuzione. Di Ultramarine Linux. Altre troviamo più. Palm, Prism, Python, Qt5, RAS. Non ci sto vedendo nulla di interessante. Di... Che mi faccio gridare al miracolo all'interno di questi repository. Terra, Terra, SISO, Terra. SSDM. Quindi non c'è niente di... Vada. C'è tutta roba che serviva per la combinazione di Pantheon, questa. Torniamo alla macchia virtuale. Vediamo se sta finendo l'installazione. Perché sto perdendo tempo con l'installazione? È giusto per vedere se pure la distribuzione si avvia. Vediamo se riesco a trovare qualche bug nel posto di installazione della distribuzione. Vi ripeto. Trovate voi un valido motivo per poter installare Ultramarine Linux a posto di Fedora? Io da questo rapido discursus della distribuzione non sto trovando nessun motivo per poter installarla come distribuzione principale. Sarò io che sono diventato vecchio. Che apprezzo le distribuzioni quelle storiche. È inutile andarsi a installare roba alternativa giusto per fare i figli. Oh, io ho installato la distro, tali dettagli che utilizziamo soltanto in 15 sulla faccia della terra. E quindi io sono più figo di te. Che utilizzi le solite Debian, le solite Arch, le solite Ubuntu. Ripeto, non sto vedendo motivo per poter installare questa distribuzione. Sapete bene. Linux Mint ha un perché. Perché si sviluppa il proprio desktop environment. Si sviluppa le proprie applicazioni. Va a fare delle scelte politiche. Nei confronti della sua distribuzione principale Ubuntu. Quindi la è pura dagli pacchetti in formato snap. Quindi Linux Mint ha un suo perché di esistere. Come vi dicevo prima. Endeavor OS ha un suo perché rispetto ad Arch Linux. Perché ci consente di installare facilmente Arch Linux pre-configurato. Anche distribuzioni come Manjaro. Non mi veniva il nome. Manjaro ha anche un suo perché. Perché è stata una delle prime distribuzioni offrire una personalizzazione. Offrire una Arch Linux completa. Quindi anche in quel caso abbiamo un perché. Questo non c'è un perché. Anzi questo il perché ce l'ha. Perché? Perché la devo mettere. Vediamo un attimo se è installata in macchina virtuale. Giusto per dargli uno sguardo da installata. Questa volta abbiamo parte un'altra volta da ISO. Vedete? Sto perdendo tempo. Sì sto perdendo tempo. Ah ecco. Ecco. La password difficilissima che mi ero inventato prima. Quindi così vediamo anche la schermata di login. E niente. Niente. Ripeto. Non vedo perché utilizzare questa. Questa. Questa distribuzione. Non c'ha personalizzazioni. A parte le personalizzazioni estetiche. Non c'ha nient'altro che. Di interessante. Cosa che potete replicare in 5 secondi. Con qualsiasi distribuzione. Linux. Anche questo. Anzi. Ah bellissimo. Ecco. Ed è un bug che ho trovato. Non chissà se è un bug o è. O quant'altro. Già. Ho appena installato la versione. La versione principale. Di. Ultramarine Linux. E. E. I Dexop. E' un nonciocco di concine qua sotto. Che erano presenti nella sessione live. Quindi. Bug numero uno che ho trovato sulla. Distribuzione. Quindi adesso. Non ci abbiamo nemmeno di più. Il hook and feel. Alla. Windows 11. Pensavo che andato. Onestamente. Pensavo che andato a installare via. Andando a installare. Lo installavo a qualche altro pacchetto. E invece no. E' quello che abbiamo trovato nella live. Lo abbiamo pre-installato anche qui. Boh. Boh. Non lo so. Non lo so. Ehm. Voi. Lasciate un commento qui. Fatemi capire. Se per voi è una distribuzione valida. Se la utilizzate. E quant'altro. Io. Ripeto. Per me. E no. Bocciato. Mi dispiace per gli sviluppatori. Di questa distribuzione. Ma. Non vedo nessun motivo. Per poterla installare. Lasciate un commento. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. E ci rivediamo al prossimo video. Alla prossima non recensione. Vediamo quali d'altra distribuzione. Che mi suggerite. Andrò a distruggere con i miei commenti pessimisti. E negativi. Ciao ciao.